Cosa impariamo oggi qui? A fare un po' di digital marketing. Cos'è un hashtag? L'hashtag è praticamente quella parola chiave che indica il tema dell'evento, dell'incontro, della lezione, come qui, che identifica in qualche modo quello che stiamo facendo. Cosa significa secondo voi scrivere per il web? Farsi conoscere. Quindi tu scrivi su un sito perché ti vuoi far conoscere, ma nel momento in cui ti vuoi far conoscere tu in realtà stai producendo delle informazioni sulla tua attività nella speranza, no? Che la gente ti trovi. Quindi le informazioni devono essere facili, veloci e soprattutto non devono stancare il tuo lettore perché l'internauta non è il lettore tradizionale e quindi lo devo stimolare. È quello che dovete sempre tenere conto quando andate a creare l'informazione, il vostro contenuto. Quindi la prima cosa quando pensate alla vostra attività è individuare il vostro target, per chi sto scrivendo. Quindi è importante farsi capire, la cosa più importante è farsi sì trovare, ma anche farsi capire, perché se ti hanno trovato e l'hai spiegato in maniera tale che non ci ho capito niente, ricordate la concorrenza è solo alla distanza di un click. Qui ci sono alcuni accorgimenti che ci aiutano a rendere il mio testo più leggibile, più scorrevole, più semplice. Creo delle piccole mappe all'interno del mio testo attraverso i link. I miei tag nella fiera del gusto saranno quegli elementi che vanno a specificare, a far capire al mio lettore, sì ma fiera del gusto quindi? E in fiera del gusto troverai il tarallono e all'interno dei blog si inseriscono questi tag che hanno sempre lo stesso obiettivo, favorire la lettura e anticipare in qualche modo i contenuti. Domanda perché facciamo personal branding? Perché avete voglia di far conoscere la vostra struttura sul territorio e magari anche fuori, perché no? Ricordate che internet ci dà l'opportunità di avere potenzialmente dei clienti in tutto il mondo e noi abitiamo in una regione pazzesca, fantastica, abbiamo tante cose da offrire. Iniziamo a lavorare e a farci conoscere. Che cosa fa questa immagine in realtà, questa foto? È vero o non è vero che in qualche modo suscita un'emozione? È pazzesca? Questi con una foto hanno creato un mondo, ma che è successo? Qual è la cosa importante di questa foto? Oltre chiaramente all'originalità dell'attività, dell'idea che hanno avuto. È una struttura, un albergo? È un B&B? Se voi avesse un albergo nelle vicinanze non me la vendete questa cosa? Che vuol dire? Che io decido non di fare pubblicità al mio albergo, sì certo anche quello, ma mi vendo tutto il territorio. Per cui cosa è importante? Avete il trullo? Avete il ristorante? Avete il bar? Cosa c'è vicino a voi che vi può aiutare a spingere la vostra attività? Quello dovete fare. Dovete fare una piccola indagine e capire chi c'è vicino a noi, con chi posso creare delle assi, delle partnership che fanno bene a me e fanno bene a lui? Io mi vendo il mio territorio, non vendo solo la mia attività. Andiamo su ioscrivoitaliano.it, lo vedo già qui aperto, perfetto. Io direi, abbiamo tre foto, clicchiamo una alla volta, prima alla prima, qui. Dove ce le avete queste foto? Sul computer. Bene? Salvate qui, save, in alto a destra. Save. Andiamo sul nostro profilo Twitter che abbiamo aperto, andiamo su modifica profilo e andiamo a cambiare l'intestazione. Quindi mettiamo... Allora, adesso andiamo a fare il nostro bel aggiornamento. Abbiamo creato un altro contenuto originale, addirittura creando un bel collage con una serie di immagini che, quando lo farete in termini un po' più professionali, illustreranno quelle che sono le vostre attività turistiche. ovviamente salviamo le modifiche, come sempre, quando facciamo un lavoro e abbiamo il nostro secondo contenuto originale. Abbiamo creato un collage e l'abbiamo fatto gratuitamente. Facciamo un esercizio insieme, pratico, anche perché questa è una cosa nuovissima, conoscono veramente in pochi. Immaginate i piccoli imprenditori che non hanno magari, no, le risorse economiche per aprire un sito, ma possono ottenere un sito in modo assolutamente gratuito, semplicemente aprendo la pagina, quella che abbiamo visto prima, apri pagina, attiva pagina e gestendo la pagina Facebook. Praticamente le informazioni passano direttamente dalla pagina Facebook e le trasformano in un sito attraverso il sito di Mageco. Andiamo sul sito di Mageco. Allora, voglio dire che Mageco, i ragazzi sono stati davvero molto carini, hanno accolto il mio invito immediatamente con molto entusiasmo. Hanno creato queste slide apposta per questo corso. Qualcuno sa cos'è la generazione Y? Grazie a tutti.